A poco più di una settimana dalla sfida a Casellina contro il Chievo, il Catania continua il lavoro sul campo del centro sportivo di Torre del Grifo. Rispetto ai programmi iniziali, la settimana d'allenamento è stata stravolta quasi totalmente e infatti, dopo i due giorni di riposo, goduti nelle giornate di lunedì e martedì, mercoledì la doppia seduta inizialmente prevista con il pomeriggio a porte aperte ha visto invece un allenamento in palestra, a causa dell'abbondante grandinata che ha reso impraticabili i campi di Torre del Grifo. Giovedì è andato tutto liscio e la doppia seduta si è svolta regolarmente, mentre anche il piano di ieri ha visto un'ennesima modifica con Montella che ha fatto allenare i suoi solo di mattina, risparmiandoli per il pomeriggio. Quella di stamattina quindi non sarà l'ultima seduta e il Catania si allenerà anche domani mattina rigidamente a porte chiuse. La buona notizia però arriva dal rientro in gruppo di Marco Biagianti e Cristian Sciama, finalmente disponibili dove problemi fisici che hanno condizionato la prima parte del loro campionato e che in realtà l'inseguono da più di un anno. A partire da oggi quindi i due giocatori potranno sperare di convincere Montella a prendere in considerazione l'idea di schierarli quanto prima e magari già domenica prossima contro il Chievo. Biagianti troverà l'abbondanza in quel centrocampo che inizio stagione guidava con la fascia da capitano e con l'odio e al Mironi inamovibili lotterà con del vecchio e ricchiuti per una maglia da titolare che con un po' di continuità potrebbe anche riconquistare. L'esterno argentino invece nel 3-5-2 di Montella avrebbe davvero un grande peso sull'auto di sinistra anche se le prime dieci giornate di Marchese e il rientro di Capuano almeno inizialmente non gli assicureranno il posto. Da valutare poi se Maxi Lopez andrà davvero al Milan come sembra ma in ogni caso almeno fino a gennaio sarà una delle armi in più di un Catania che vuole continuare a stupire tutti e che non ha alcuna paura di viaggiare nelle parti alte della classifica insieme alle grandi.